Sei contento di questa mostra? Sono più che contento, è una mostra direi grave, eccezionale, esotica e allo stesso tempo Quando eravamo, perfetta per l'esposizione dei miei quadri, eccetera eccetera, mi sono trovato armonia anche con un mio vecchio gallerista Lui faceva la corte da tre anni, ciao! Come vedi la mostra? Completata, interessante, non ho mai visto i miei quadri esposti così bene, è la prima volta nella vita Grazie per la visione!